Quello che diciamo noi al Capo dello Stato è quello che stiamo dicendo pubblicamente. Non abbiamo un doppio linguaggio. Il governo Conte II era inadeguato ad affrontare gli importanti temi del momento. In questo momento vi sono delle emergenze impellenti ed esiziali per il nostro Paese. La definizione del recovery, una campagna vaccinale che stenta a partire, il tema dell'equilibrio della sanità delle regioni e poi ancora a marzo lo sblocco dei licenziamenti e una crisi economica che incombe sul Paese. C'è bisogno di dare delle riforme. Non è il momento di governicchi accrocchiati con qualche responsabile volenteroso o meno che esso sia. C'è bisogno dello sforzo di tutti. In questo senso il nostro movimento politico c'è, ma certo deve essere un governo che sia all'altezza delle sfide e sostenuto da un'ampia maggioranza parlamentare che sappia fare anche quelle riforme per cui magari la prossima legislatura non sia esattamente come questa, con governi di colori diversi fino ad arrivare all'ultimo governo variopinto che forse uscirà da questa crisi. Disponibili ad un governo di unità nazionale che dia risposte serie e con personalità serie e capaci, non disponibili, a conte 3, conte 4, rossi 1, bianchi 2, che siano invece accrocchi riuniti con maggioranze raccoglitiche ed eterogenee. La nostra linea è chiara e cristallina.